Emergenza e migrazione, Orlando ha inviato una lettera appello a 5 presidenti di governo europei. Torneranno in azione domani le ruspe alla Valle dei Tempi per abbattere i manufatti abusivi. Sant'Elia appello al sindaco contro il degrado della frazione marinara. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews, oggi è martedì 25 agosto. Emergenza e migrazione, il sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia, Leo Luca Orlando, ha inviato una lettera appello a 5 presidenti di governo europei affinché mettano in atto azioni politiche concrete. L'emergenza e migrazione si fa sempre più grave, così il sindaco di Palermo e presidente del Anci Sicilia, Leo Luca Orlando, ha deciso di inviare una lettera a 5 presidenti di governo europei e al presidente della Commissione europea. L'appello è indirizzato ai primi ministri del Regno Unito, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Grecia, Francia e naturalmente Italia. Orlando chiede alle istituzioni europee e ai capi di governo di impegnarsi a cercare di risolvere l'emergenza alla base con azioni politiche importanti. Qualche settimana fa, scrive Orlando, abbiamo sentito dire non è una questione che riguarda soltanto la Francia e la Gran Bretagna, quanto ancora dovremmo aspettare perché finalmente davvero si cominci a parlare e ad agire considerando il tema delle migrazioni come una questione politica europea e globale. A 70 anni dalla fine delle barbarie nazifasciste e a 25 anni dalla fine della cortina di ferro, aggiunge ancora il sindaco di Palermo, l'Europa deve saper trarre profitto dalla sua storia, deve saper apprendere dai propri errori. Signori presidenti, conclude Orlando, oggi mi rivolgo a voi proprio perché voi, i vostri governi e i vostri concittadini avete e hanno chiaro che non è una questione solo italiana, solo greca, solo britannica, solo francese o solo macedone, nella speranza che si possa registrare una svolta che vada oltre la migrazione e rispetti la mobilità internazionale come diritto umano inviolabile. E proprio stamattina è arrivata al porto di Augusta una nave con a bordo 320 migranti, a bordo anche il corpo di un 14enne somalo, sconvolgenti in racconti dei sopravvissuti. Ancora orrore nel canale di Sicilia, ha traccato questa mattina nel porto di Augusta la nave digniti di Medici Senza Frontiere, con a bordo 320 migranti, tra cui numerose donne e bambini, tratti in salvo domenica scorsa. A bordo anche il corpo di un ragazzo di 14 anni, somalo, morto nella notte a causa di un attacco cardiaco. Secondo quanto raccontato dall'organizzazione umanitaria, il minore viaggiava da solo e quando è arrivato a bordo era già in condizioni critiche, con difficoltà di movimento. Le persone che viaggiavano con lui hanno riferito che era stato ripetutamente e brutalmente picchiato in Libia tre settimane prima. Da quel momento la sua salute era peggiorata, senza alcun tipo di cura e spesso senza cibo ed acqua. Intanto gli uomini della squadra mobile di Palermo, nel corso delle operazioni di identificazione, avrebbero individuato sei presunti scafisti e responsabili dell'ennesima traversata verso la Sicilia. Uno degli scafisti sarebbe stato quello che si trovava al timone dell'imbarcazione. Gli agenti hanno sentito i profughi che hanno indicato chi fosse al comando dell'imbarcazione e chi invece componesse l'equipaggio. Altre indagini sono in corso. Cambiamo argomento. Torneranno in azione domani le ruspe alla Valle dei Tempi per abbattere i manufatti abusivi. Con l'abbattimento di un muretto di cinta abusiva a Poggio Muscello, in zona ad inedificabilità assoluta del parco archeologico della Valle dei Tempi di Agrigento, è stata avviata la demolizione delle 650 costruzioni abusive. Si tratta di ben poca cosa, ma è pur sempre un inizio e non sarà un'operazione facile, considerato che per il solo muretto l'operazione è stata bloccata dai legali del proprietario del manufatto che hanno adotto un vizio di forma. E' dovuto intervenire il sostituto procuratore di Agrigento Carlo V per sbloccare la situazione, ordinando l'esecuzione del provvedimento del 3 dicembre del 1998 che disponeva alla demolizione di quel muro abusivo nella Valle dei Tempi. Ed è stata la stessa procura di Agrigento con il procuratore aggiunto Ignazio Fonso già all'inizio di giugno a lanciare un vero e proprio ultimatum. Si proceda alle demolizioni, altrimenti l'autorità giudiziaria procederà per abuso d'ufficio ed omissione di atti d'ufficio a carico dei responsabili degli uffici degli enti competenti che impediscono il ripristino della legalità nella zona del Parco archeologico della Valle dei Templi. Parola rivolta al Comune di Agrigento, alla sovintendenza e beni culturali e al Parco archeologico. Domani mattina l'impresa di Palma di Montechiaro, aggiudicataria della gara d'appalto del Comune, tornerà in azione per radere al suolo un alto dei manufatti per i quali la sentenza che dispone la demolizione è diventata definitiva. In 3.500 senza stipendio, dallo scorso mese di maggio, mobilitazione dei lavoratori forestali. Lavoratori forestali siciliani in mobilitazione. L'iniziativa è stata proclamata dai sindacati Five, Fly, Willa. I forestali hanno lavorato dal mese di maggio senza percepire un euro di stipendio. I progetti erano già finanziati dal 2014. Si arriva a questo paradosso. Quando i soldi non ci sono, i forestali non vengono avviati al lavoro. Quando i soldi ci sono, i forestali lavorano ma non vengono pagati. A denunciare i ritardi di tre mesi accumulati nell'erogazione degli omorumenti dei forestali è il segretario della Fly CGL di Palermo, Tonino Russo. Al fermento per i pagamenti negati si aggiunge il malcontento per il mancato raggiungimento di quanto concordato con la presenza della Regione per i 151isti e i centunisti. In tutto circa 10.000 forestali impiegati nelle manutenzioni, il cui lavoro è stato interrotto in questo mese di agosto prima del compimento del periodo per l'assenza di copertura finanziaria. C'è un grande stato di incertezza che grava sui livelli occupazionali di tutto il settore nonostante le rassicurazioni giunte al governo regionale e dal Dipartimento. In più oggi, conclude Tonino Russo, non abbiamo alcuna garanzia sul pagamento del lavoro svolto. Tenta di corrompere i finanzieri durante un controllo. A Palermo ha arrestato un cittadino cinese e sequestrati prodotti contraffatti e pericolosi per la salute. I finanzieri del gruppo pronto impiego di Palermo hanno arrestato in flagranza un cittadino cinese di 44 anni che durante un controllo ha tentato di corrompere i militari mettendo nella tasca posteriore dei pantaloni di uno dei due sette banconote da 50 euro l'une, aggiungendo questi per offrirvi un caffè. L'arresto è scattato immediatamente insieme al sequestro della somma dei 350 euro. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Le ulteriori operazioni di polizia condotte presso l'esercizio commerciale di via Lincoln, destinato principalmente alla vendita di materiale elettrico ed informatico, hanno permesso di individuare diverse varietà di beni, alcuni palesemente contraffatti, altri pericolosi e destinati ad essere commercializzati in frode. Sono stati pertanto sequestrati ben oltre 6.500 prodotti, tra orologi e accendini contraffatti, materiali informatico commercializzati in frode, nonché materiali elettrici, confezionati ed etichettati in modo da ingannare l'acquirente in ordine alle caratteristiche qualitative del prodotto, risultando delle evidenti concluenze tra le indicazioni presenti sulla confezione ed il prodotto contenuto, ad esempio la mancata coincidenza tra il voltaggio di una tipologia di lampadine con quello impresso nella relativa confezione. Sant'Elie è diventata invivibile tra sporcizia, frastuono notturno e non ultimo un grave atto vandalico ai danni dell'edicola votiva, simbolo della frazione marinare. Tra il parroco e i cittadini rivolgono un appello al sindaco. Quindi Sant'Elie, ho detto ieri sera, ormai è invivibile, ma non tanto per dire, è proprio così, al punto che persone che hanno la casa qua sono costrette ad andarsene altrove, perché la notte non si può riposare. Ognuno è libero di impiantare tutte le amplificazioni che vuole, suonare ad altissimo volume, suonare fino alle 4 e mezza del mattino, giorno 14 agosto, anzi già 15 agosto. Non si è vista mai un'autorità, né mai si è sentito dire, non so, hanno fatto i carabinieri o i vigili urbani un controllo, è successo questo, quest'altro. Quindi c'è la piena convinzione che ognuno qui possa fare quel che vuole. E di fatto avviene questo, ognuno fa quel che vuole, appunto perché non ci sono regolamenti o anche se ci sono nessuno li fa osservare, perché non basta scrivere un'ordinanza, bisogna che poi quell'ordinanza venga messa in atto e quindi questo non succede assolutamente. Ed essendo invivibile, noi abbiamo raccolto un bel po' di firme chiedendo la presenza del sindaco, perché il primo responsabile è lui di quest'andasio e quindi vorremmo che si trovassi un rimedio soprattutto efficace, non solo chiacchiere, come è successo in passato. Anche perché ecco, la colpa non è solo dell'attuale amministrazione, il problema è vecchio. Noi abbiamo fatto esposti anche alla procura di termini negli anni passati, senza concludere proprio nulla. Quindi la legalità è solo una parola di cui tanti si riempiono la bocca. Ecco, io credo che oggi l'avere imbrattato, o meglio l'avere ritrovato la cappella che è il simbolo del mio paese, così imbrattata di rosso, quindi è un chiarissimo segno intimidatorio, rosso come sangue, dopo, in seguito a quell'incontro che abbiamo avuto e alla raccolta delle firme, solo per chiedere i nostri diritti, noi abbiamo chiesto al primo cittadino che ci garantisca quello che è il nostro diritto fondamentale, la libertà di vivere. Noi non siamo contro nessuno, noi vogliamo solo vivere nel nostro paese. Nel rispetto della legalità, solo questo chiedevamo. Ma un sindaco che si trincera dietro le parole, il prete fa politica, mi fa paura perché è peggio di vedere quella cappella oggi imbrattata. Noi chiediamo solo questo come Sant'Eliesi, riavere il nostro territorio per poter vivere da cittadini consapevoli che pagano le tasse e che sono veramente orgogliosi dei propri scogli, del proprio mare, di questa cappella che, ripeto, è il nostro simbolo. Solo questo. Preoccupazione a Bagheria per la decisione presa dal Comune di Figarazzi di inibire il transito veicolare ai mezzi pesanti sul tratto della strada statale 113. Questa scelta, infatti, rischia di avere un impatto devastante sul già cautico traffico bagherese perché i mezzi pesanti vengono di fatto dirottati proprio qui. Sulla questione interviene il Partito Democratico. Il Partito Democratico ha presentato un ordine del giorno che riguarda il passaggio dei mezzi pesanti da Bagheria. Questi mezzi pesanti sono sia superiori alle 5 tonnellate, quindi mezzi molto grandi, che percorrono Bagheria, diciamo, dallo svincolo autostradale fino a tutto via Flavio Gioia, vicenda di Palermo, fino alla statale e viceversa. Vediamo perché accade questo, perché prima non accadeva. Questo, diciamo, durante tutto il giorno, tutte le ore del giorno e della notte, 24 ore su 24, questo accade perché dall'aprile dello scorso anno, aprile 2014, è entrata in vigore un'ordinanza del sindaco di Figarazzi che vieta quasi per l'intera giornata, se tranne in alcune ore notturne, il passaggio dei mezzi pesanti dal comune di Figarazzi. Il disagio adesso non lo vivono più i cittadini di Figarazzi, ma lo vivono i cittadini bagheresi, perché questo disagio comporta inquinamento atmosferico e acustico, comporta anche un'usura del manto stradale, comporta un aumento notevole del traffico, sia nei periodi lavorativi e anche nei periodi in cui, negli orari di entrata e uscita dalle scuole, anche perché questo percorso comporta che vi sono tre istituti scolastici e quindi è anche una questione di sicurezza per i ragazzi, i bambini che attraversano la strada con i genitori, insomma, crea notevoli disagi. Abbiamo presentato un ordine del giorno in cui si chiede, facendo presente tutti questi disagi, si chiede all'amministrazione, innanzitutto tramite l'ARPA, cioè l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, di fare delle rilevazioni appunto per quanto riguarda l'inquinamento acustico ambientale. Nel caso in cui, come pensiamo, dovessero essere i valori superiori ai limiti consentiti, allora chiedere nuovamente non solo al Comune di Ficarazzi, ma anche ad altri comuni limitrofi, quali Villa Abate, Santa Flavia, magari questi comuni dove vi sono delle sedie, anche delle società di questi tir che passano da bagheria, dei trasporti, sì, chiedere l'apertura di un tavolo tecnico di confronto per rivedere innanzitutto questi orari, questi limiti di passaggio e prevedere eventualmente un contributo economico da parte di questi comuni nei confronti del Comune che subisce ulteriori maggiori disagi. Dopo Ferragosto la spiaggia e l'arenile di Aspa sono diventati sempre più sporchi e invivibili, ma il Sindaco Patrizio Cinque assicura in atto un piano di rinascita per restituire decoro alla zona. L'obiettivo dell'amministrazione è portare decoro nell'arenile, portare ordine e soprattutto migliorare l'immagine che Aspra dà al turista e ai residenti. Voglio però specificare che i pescatori rimarranno perché l'obiettivo non è quello, come qualcuno dice, di eliminare, togliere i pescatori, ma i pescatori rimarranno e anche i non pescatori che svolgono attività comunque a livello amatoriale dopo una registrazione possono tranquillamente sostare, mantenere la loro barca, la loro imbarcazione nell'arenile, però devono mantenere il decoro. Alcune barche non hanno più nessun proprietario, sono state abbandonate, per cui vogliamo portare un po' di ordine. Penso che almeno un terzo delle barche che attualmente ci sono possano essere sgomberate, quindi dopodiché va bonificata la spiaggia e tutto deve rimanere, cioè dobbiamo dare un'immagine migliore di Aspra. La polizia e le spiagge? Un'amministrazione dice che se deve distrarre risorse per i problemi creati da delle persone che sono maleducate e lasciano i loro rifiuti nella spiaggia, perché non è giusto neanche metterli i contenitori nelle spiagge, la gente porta i propri rifiuti e se li deve riportare, perché non è casa sua, è la casa di tutti, è una spiaggia che deve essere fruita a tutto il pubblico e noi dobbiamo educare le persone a fare questo. Quindi si chiede sicuramente l'intervento dell'amministrazione e cercheremo di stare più attenti anche in questo. Proveremo anche a vigilare e a educare le persone e molte in realtà già lo fanno e danno l'esempio e su base volontaria cercano di... e puliscono pure, quindi ci riconsegnano la spiaggia pulita. L'amministrazione deve... sicuramente possiamo fare di più da questo punto di vista, però invito tutti i cittadini se andate in spiaggia, vi portate dei rifiuti, ve li dovete riportare, perché non è quello il luogo in cui si deve lasciare un rifiuto. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.